AMD ha presentato al CES di Las Vegas 2022 la nuova generazione di processori AMD Ryzen 7000. Ci sono tante chiacchiere, tante voci, ma in questo video cerchiamo di riassumere quali sono le principali novità e cosa aspettarsi dalla nuova generazione. Ma prima, sigla e ricordatevi di iscrivervi al canale. Benvenuti sul canale di VG Informatica, io sono Toto e oggi andiamo a vedere un po' più da vicino tutte le novità riguardo alla nuova generazione di processori di casa AMD. Le novità sono state presentate durante il CES di Las Vegas che si tiene tutti gli anni le prime settimane di gennaio. Tuttavia stanno arrivando vari rumors e varie novità che arricchiscono dunque il plafond di informazioni che abbiamo a disposizione. Bene, dovete sapere che Ryzen 7000 sarà una generazione di processori che sarà disponibile non solo per PC desktop ma anche per PC notebook. Al contrario dei precedenti Ryzen 6000 che invece abbiamo visto solamente sui PC portatili, i nuovi Ryzen 7000 dovrebbero arrivare per fine anno per quanto riguarda le CPU desktop, quindi quelle che andremo ad assemblare sui computer che ordinerete tramite il nostro sito, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione, sia per computer portatili, quindi quelle che troverete quando andrete ad acquistare un portatile, sia esso per produttività oppure da gaming. Ma quando arrivano questi nuovi processori? Beh, per quanto riguarda le CPU desktop l'attesa è prevista nel Q4 del 2022. Quando AMD lanciò la precedente generazione Ryzen 5000 venne presentata al pubblico ottobre 2020 con disponibilità effettiva sul mercato a novembre 2020, per cui possiamo anche aspettarci che la nuova generazione possa arrivare entro quelle date, comunque nell'ultimo trimestre del 2022. Per i processori notebook dovremmo invece aspettare i primi quattro mesi del 2023, in modo da vedere le prime proposte e maggiori novità. Ma quanto costeranno questi nuovi processori AMD? Il lancio di una nuova generazione coincide spesso con l'aumento sia dell'efficienza che delle prestazioni, ma ci arriviamo. Ciò comporterà un aumento di prezzo? Beh, AMD in questo senso è sempre stata abbastanza conservativa, attuando sempre gli stessi prezzi rispetto alla generazione uscente. La precedente generazione si testava sui 299 dollari per il Ryzen 5 5600X, 449 dollari per il Ryzen 7 5800X e ben 799 dollari per il Ryzen 7 5950X. Per cui potremmo attenderci dei prezzi molto simili rispetto alle varie fasce di prezzo. Tuttavia, consideriamo l'attuale situazione di mercato con prezzi in continuo aumento. Probabilmente ci potrebbe essere un adattamento di prezzi che potrebbe variare tra i 50 e i 100 dollari in più a seconda della fascia di prezzo del processore. Con i nuovi Ryzen 7000 la più grande novità è però l'arrivo dell'architettura Zen 4, che andrà di fatto a sostituire la precedente architettura Zen 3. Quali sono le novità principali? Prima di tutto il processo produttivo. AMD ha annunciato che i nuovi processori saranno fatti con un processo produttivo a 5 nanometri. Cosa significa questo? Che nello stesso spazio del chip potremmo andare ad inserire un maggior numero di transistor, andando così ad aumentare la velocità di calcolo. Tuttavia, ultime notizie hanno fatto trapelare il fatto che AMD sia stata costretta ad adattare in realtà il processo produttivo, che potrebbe variare tra 5 e 6 nanometri a seconda della fascia di prezzo del processore. Quindi è possibile che vedremo i processori di fascia un po' più bassa, come i Ryzen 5 di generazione 7000 con processo produttivo a 6 nanometri, mentre quelli di fascia più alta con processo produttivo a 5 nanometri. In ogni caso ci sarà comunque un miglioramento rispetto alla passata generazione che veniva prodotta con processo produttivo a 7 nanometri. Tale processo produttivo però comporterà anche non solo un aumento delle prestazioni, confermato circa il 25% in più della generazione attuale, ma soprattutto anche un TDP più elevato. Mentre il processore top di gamma 5950X si attestava sui 105W di TDP, la nuova generazione dovrebbe attestarsi, secondo i rumor strapelati, tra i 105 e i 120 TDP. Quindi più calore da dissipare, ma anche più energia consumata. La nuova architettura Zen 4, inoltre, porta altri vantaggi, tra cui la compatibilità con le nuove RAM DDR5. Questo è sicuramente un vantaggio all'autoprestazionale, soprattutto AMD dovrebbe aver risolto completamente i problemi di compatibilità che abbiamo avuto quando sono state lanciate le prime generazioni di Ryzen, dove i modelli di RAM compatibili erano davvero molto pochi. In ogni caso però, quando viene aggiornata l'architettura, viene aggiornato anche il socket. Viene abbandonato dunque il socket AM4 che è stato presentato con l'arrivo dei Ryzen 1000 di prima generazione ed è rimasto pressoché lo stesso, salvo poi aver visto alcuni upgrade nelle mezze generazioni fino al 2020 e verrà adottato il nuovo socket AM5. Di fatto non potremo più montare un processore di vecchia generazione sulle nuove schede madre né viceversa, per cui se vogliamo fare un upgrade del nostro computer dovremo cambiare non solo il processore e la scheda madre ma anche le RAM. Per cui l'upgrade, se passate da una vecchia generazione, sarà decisamente più costoso. La notizia positiva è che questo upgrade verrà comunque sostenuto da AMD per i prossimi anni. Io credo e spero che AMD usi poi lo stesso socket per almeno 2-3 generazioni di processori, una cosa che va a vantaggio dell'utente e che facilita senza ombra di dubbio l'upgrade. Se io vado a comprare il nuovo Ryzen 7000 facendo l'upgrade anche di scheda madre e RAM, nel momento in cui verrà lanciato un ipotetico Ryzen 8000 dovrò di fatto comprare solamente il processore e non tutto il blocco, risparmiando centinaia di euro. Queste sono le principali novità che sappiamo al momento sui Ryzen 7000. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, cosa vi aspettate dalla nuova generazione di processori AMD, perché le notizie arrivano sempre più numerose e i fan stanno letteralmente scalpitando. Bisognerà anche vedere come si comporterà il mercato e quali saranno poi le effettive disponibilità, perché se la situazione rimarrà simile a quella vista con le schede video qualche mese fa, beh, accaparrarsi un processore di nuova generazione potrebbe non essere così facile, ma questo ce lo dirà solamente il tempo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace, condividete questo video con i vostri amici che stanno aspettando Ryzen 7000 e se siete di Torino e dintorni venite pure a trovarci nel nostro shop in via Benevagenna21b, dove il nostro staff sarà pronto ad accogliervi e dove potrete provare anche la nostra sala LAN. Per questo video è davvero tutto, ciao! Ciao!